Continuiamo a parlare di coronavirus insieme ad un nostro ospite, siamo in compagnia di Carmine De Pascale, consigliere regionale nonché presidente del comitato delle associazioni di volontariato di protezione civile in merito proprio alla emergenza coronavirus. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno agli spessatori. Grazie per essere qui con noi, la situazione è veramente molto seria da queste ultime ore, c'è questo nuovo decreto da parte del Premier Conte, non sappiamo però come uscirne anche perché l'operatività, diciamo la verità, in queste prime ore di giorno erano ancora e probabilmente sono ancora allo stato confusionale, cosa si deve fare? In Regione Campania non abbiamo confusione perché le idee sono chiare e la comunicazione è stata precisa, puntuale, unidirezionale e si sta lavorando allacremente sotto il profilo organizzativo, sotto il profilo della ricettività per aumentare la ricettività in caso che questa emergente diventi ancora più seria di quello che è, per cui siamo in una situazione che noi, mio giudico, governabile qua in Regione Campania, se a livello nazionale chiaramente le cose potevano andare un po' meglio, ritengo, chiaramente adesso siamo nella situazione attuale dove sono state emanate queste disposizioni ieri sera e che sono disposizioni alle quali ci dobbiamo attenere perché risulta importante in questo momento contenere il contagio. Aspetta, ripercorriamo un po' la struttura di questo provvedimento, cioè supermercati aperti, gli esercizi commerciali restano aperti, ma c'è bisogno anche di educare un po' la popolazione al rispetto di queste regole. Come dobbiamo comportarci anche per esempio per gli spostamenti? Per motivi di salute, per motivi di lavoro ci si può ancora spostare? Che cosa è consigliabile fare? Perché non c'è ancora tanta chiarezza da questo punto di vista, abbiamo visto delle immagini ieri soprattutto sul web che hanno parlato chiaro, cioè persone che si ammassavano ancora una volta nella corsa al supermarket, questa è una cosa che non è più tollerabile. Ecco, voglio dire subito, non c'è bisogno di questa corsa al supermarket, perché la catena alimentari, gli autotrasportatori non hanno nessun fermo, nessuna interruzione della loro attività lavorativa, per cui il flusso delle forniture alimentari continua in interrottamento. La paura, sa probabilmente, è quella del pubblico, in realtà, poiché le informazioni sono arrivate in maniera così subitanea, repentina, in pochissime ore, si teme che possa esserci un'ulteriore improvvisa comunicazione, per cui, ecco, restare poi a casa senza avere i rifornimenti, i vivere, i proprio quelli essenziali per condurre la quotidianità. Però diciamo anche nel preciso qual è il ruolo proprio della protezione civile in merito a questa emergenza, di modo ecco perché i cittadini devono comunque affidarsi a tali comparti anche, e anzi li ringraziamo. Sì, è tutta sanitaria in questo momento, la protezione civile come organizzazione, la cui finalità è la salvaguardia della vita umana, in questo momento ha la funzione di coordinamento e di monitorare la situazione, tant'è vero che la task force regionale si riunisce nella sala di coordinamento delle emergenze della protezione civile al centro regionale e in contatto, laddove il governo e il commissario governativo si riunisce, cioè al Dipartimento Centrale di Protezione Civile a Roma in videoconferenza. Senta, ma l'azione di monitoraggio e coordinamento non è roba da poco, cioè in questo momento è molto importante farlo, le chiederei proprio in che modo state agendo sul territorio, perché è interessante anche scoprire la modalità attraverso cui cercare di arginare la problematica per quanto possibile. Noi allo Stato abbiamo 128 contagiati nella regione Campania, 43 a Napoli, è una situazione che non è disperata, è una situazione come dicevo prima, è governabile e si sta lavorando per aumentare i posti di terapia intensivo, per arrivare fino a 3 mila, perché in questo momento ciò che è importante è quello di dare uno stop, una frenata a questo… Mi permette un attimo perché non riusciamo a sentirla, ecco ci portano il palmare, ecco qua. Quindi come diceva è una situazione governabile con capire qual è il nostro status. Assolutamente, ma è umanamente comprensibile che i cittadini si preoccupano, però io non mi stancherei ancora di dire che bisogna osservare queste regole e uscire di casa solo per motivi necessari. Esattamente necessari. Esattamente necessari, non è ammissibile ad esempio ciò che è successo sabato sera, mi racconto, in un reparti sulla spiaggia di Pozzuoli di centinaia di giovani, questo dimostra anche l'irresponsabilità che soprattutto i giovani non hanno capito qual è l'importanza e tendono insomma a interpretare questa chiusura delle scuole come una vacanza. Invece ecco io quello… È un'emergenza. È una vera e propria emergenza ecco per evitare la diffusione del contatto. Quello che io ho proposto proprio di avviare anche una campagna di comunicazione fatta da persone che i giovani seguono come i campioni sportivi e gente dello spettacolo, diciamo che sono in maniera generazionale vicini a loro e possono farsi ascoltare. Io penso alla campagna, diciamo a quella pubblicità che ha fatto Fiorello che è stata molto efficace, adesso ci vuole un qualcosa che convinca i giovani che questa è un'emergenza seria. Certamente Fiorello sempre in chiave ironica riesce a catturare qua anche e soprattutto le nuove generazioni. Misure restrittive, un'Italia che si chiude, una zona rossa però la paura, ancora una volta la preoccupazione che se qualora dovesse esserci un caso esponenziale e peggiore potrebbero potremmo avere delle misure restrittive ancora di più rispetto a quelle che adesso abbiamo. Io sono del parere, l'ho esternato in più contesti. Lo dico ma è una mia convinzione personale che deve scendere in campo l'esercito perché io provengo dal mondo militare, sono un generale dell'esercito e ho lavorato sempre sull'emergenza. Quando siamo in emergenza vengono date delle disposizioni ma bisogna anche controllare che queste disposizioni vengano attuate. Da questo punto di vista che cosa intende come supporto supplementare a quanto già c'è in campo? All'attività di controllo. Cioè che cosa potrebbe fare l'esercito in questo senso? Guardi, in una situazione come quella c'è stata sabato sera questo afflusso indiscriminato, fuoriuscita indiscriminata, delle persone da Milano verso il sud Italia, le forze in campo avrebbero dovuto e potuto controllare le autostrade, le stazioni e gli aeroporti. Ma giusto per avere un po' un'esatta cognizione chi è che si muoveva e anche per fare dei controlli accurati. Noi prima abbiamo parlato telefonicamente anche con il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino e lei giustamente poneva ad esempio anche la situazione quella in Cina laddove queste misure restrittive oggi sicuramente sono più rose perché c'è stata una situazione un po' più ferma, più decisa proprio come diceva lei per la presenza di chi era lì e controllava in maniera continua. Questo però, diciamo la verità, sono pochi giorni insomma in cui sono state prese queste misure, probabilmente accadrà quanto lei sta dicendo ora, nel senso che si prenderanno poi provvedimenti di tal genere. Io lo spero, io lo spero e l'ho detto e l'ho invocato. Noi abbiamo bisogno di persone sul territorio che controllino che queste disposizioni vengono applicate, altrimenti è tutto inutile. Noi dobbiamo invertire assolutamente la tendenza del contagio, così come è avvenuto in Cina ed essere severi nell'applicazione di queste misure, altrimenti... E anche da questo punto di vista è comparto ed onio a sostenere, a controllare e monitorare una bella fetta della nostra popolazione, secondo lei? Comparto quello là, insomma, delle forze dell'ordine? Assolutamente, se ai militari si dà un ordine, rientra nel loro DNA, nel loro modo di essere, di eseguire ciò che viene detto, ma per il bene dei cittadini non abbiamo delle risorse, faccio solo questo esempio, nell'ambito dell'esercito c'è un reparto, c'è un reggimento, c'è una scuola NBC, nucleare, batteriologica e chimica, dotata anche di assetti e apparecchiature per rilevamento di virus, di batteri e anche di bonifica del territorio, allo stato attuale non è impiegata. Ecco, lei dice, utilizzare anche la mano forte là dove è necessario, è accaduto in Cina, hanno riscosso il loro risultato perché in Cina c'è una diminuzione in questo momento del virus. Io dico questo, noi stiamo combattendo una guerra, non volevo esprimermi in termini militari, se la vogliamo vincere dobbiamo essere determinati ad applicare le regole. Intanto, quello che dobbiamo dire, limitiamo le relazioni sociali, restiamo a casa, restate sintonizzati su Canale 9 perché noi continuiamo la trasmissione subito dopo questo piccolo spazio pubblicitario. Grazie. 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 Grazie.